Ben ritrovati amici del centro medio italiano. Con l'inizio di agosto molti fremono già per le previsioni medio del ferragosto. Precisiamo però che ancora non è possibile fare alcuna previsione dettagliata per una scadenza temporale così lunga. Proviamo tuttavia con una tendenza medio a vedere cosa potrebbe succedere in questa prima metà del mese. La prossima settimana vedrà l'anticiclone disteso tra Mediterraneo centrale ed Europa orientale. Il tempo sarà dunque tipicamente estivo sull'Italia con temperature anche sopramedia al centro nord. Non mancheranno comunque i temporali pomeridiani sviluppo su Alpi e Appennino. Di sicuro comunque nessuna rottura dell'estate. A seguire e quindi in vista del ferragosto entrambi i principali modelli mostrano un anticiclone meno invadente in sede mediterranea e dunque una maggiore probabilità che una saccatura atlantica transiti sul nostro paese. In tal caso potremmo quindi aspettarci temperature decisamente meno calde e anche qualche pioggia più organizzata specie al centro nord. Trattandosi di tendenze meteo sul lungo termine continuate a seguirci nei prossimi aggiornamenti per avere una previsione sempre più affidabile per la settimana del 15 agosto. Un saluto da parte del centro metro italiano.